Ciao a tutti gli amici di Ediman, vi faccio un caluroso augurio di tuo cinquantesimo anniversario a me e a Tonino Luzzo e a tutto lo staff del Tauro Superstabesamento del Posto. Auguri Ediman e auguri Meeting e Congressi, nostri partner da sempre e fondamentali per il successo del Parco Tele Cappuccini. Buon compleanno Meeting e Congressi, questa struttura deve molto a te e a Ediman in termini di popolarità nel settore mais. Convido che le nostre famiglie proseguiranno insieme la loro partnership per altri cinquant'anni. Un abbraccio a tutti voi. Plani e Congressi è lieta di festeggiare i cinquant'anni di Meeting e Congressi, il magazine di riferimento del mondo mais, che ci accompagna regolarmente con le sue preziosi notizie ed aggiornamenti. Noi di Catalunya vogliamo congratularci con voi per questi cinquant'anni e vi facciamo un grande buco al lupo per i prossimi cinquanta. Ciao Meeting e Congressi, congratulazioni dal sottoscritto Nicola Testai e da tutto il team di OEC. Avete raggiunto un traguardo incredibile, cinquant'anni, ci avete accompagnato da tantissimo tempo e avete tenuto alta la bandiera della Meeting Industria Italiana. Ci vediamo al prossimo traguardo. Grazie a Meeting e Congressi per aver pubblicato centinaia di miei articoli per la diffusione del sapere e della professionalità in Meeting Management. Questo è un settore importantissimo per lo sviluppo dell'economia e del sapere in diversi continenti. Abbiamo fatto un bel lavoro insieme. Grazie. Volevo ringraziare Marco e tutta Ediman, il team ediperiale, Anna e Jessica per l'ottimo lavoro svolto in questi anni. È stato un piacere conoscere e collaborare con loro. Auguri di altrettanti cinquant'anni di attività e bocca al lupo. Ciao Marco. Vi unisco con tanto affetto al coro di auguri per festeggiare questo incredibile traguardo dei cinquant'anni. Sarai fiero ed orgoglioso di tutto quello che siete riusciti a fare in questi anni. Io tra poco mi festeggio 25. Mi ricordo ancora i primi tempi quando in agenzia c'era il librone, il vostro annuario, al quale facevamo sempre riferimento. Un googolante litteram custodito e protetto da alcuni eletti. Era certamente uno strumento di lavoro quotidiano che mi ha accompagnato per tanti anni. Adesso sono cambiati i tempi, cambiate le piattaforme, ma voi ci siete sempre. Quindi non mi rimane che augurarvi un futuro tanto radioso quanto è stato il vostro passato e perché no altri cinquanta di questi anni.